Ieri più incendi su vari fronti qui a Teramo, voi vi siete occupati comunque del soccorso e avete avuto comunque una notte impegnativa. Che cosa avete fatto a livello di soccorso, ma soprattutto che cosa vi siete trovati davanti una volta arrivati lì? Beh sì, noi ieri pomeriggio avevamo già una squadra in pronta partenza, come tutti i giorni lasciamo a disposizione la sala operativa regionale, che si occupa degli incendi boschivi, però appena è arrivata la comunicazione della squadra che era sul posto e la situazione era abbastanza grave, molti di noi sono lasciato famiglie, festeggiamenti di ferragosto e sono venuti, tant'è vero che siamo usciti con tre pick up e un autobot. Beh la situazione, noi diverse volte abbiamo fatto gli incendi a Carapollo, quello di ieri è stato abbastanza, forse il peggiore che abbiamo visto. Purtroppo le condizioni meteo non erano delle migliori, per cui il vento non ha aiutato, il caldo non piove da tantissimo tempo, quindi è stato abbastanza complicato. Abbiamo proseguito poi fino al presidio notturno, una nostra squadra è stata proprio qui a Carapollo e un'altra squadra è stata mandata a Torricella, perché contemporaneamente Carapollo, Torricella, Miano, quindi fino alle 5 di la mattina siamo stati a fare spegnimento e supporto ai vigili del fuoco vicino a una casa. Ci sono ancora dei rischi per Teramo e le abitazioni all'interno del centro? Penso che insomma la situazione adesso sia abbastanza tranquilla, però adesso l'importante è che le squadre facciano le bonifiche a terra, quindi seguano il perimetro, bagnino e puliscano il perimetro in modo che si estingua definitivamente l'incendio.